Occhi Mettiti qua, facciamo un numero Basilio Basilio, ma se vi mettono dentro fai qualcosa per tirarvi fuori o no? Siamo qui oggi in Piazza Duomo il 6 febbraio per ricordare il 48esimo anniversario dell'entrata in carcere di Leonard Peltier. Fra poco stenderemo il nostro striscione, ricorderemo quella data perché quando nel 1976 venne arrestato in Canada, Leonard Peltier aveva 31 anni e ora ne avrà fra poco 80. Leonard Peltier deve essere liberato, sta pagando per le colpe dell'American Indian Movement, un movimento che lottò in quegli anni. Non è possibile che tutti chiedano la sua liberazione e il Presidente Biden non abbia il coraggio di firmare. Quindi free Leonard Peltier al più presto qui a Milano, come in altre città d'Europa, a Parigi, a Francoforte, a Barcellona in questi giorni e chiaramente negli Stati Uniti. Grazie a tutti e a tutte. Un indiano d'America che è in carcere da 48 anni e più giovani, qui ha 80 anni e da 48 anni e più giovani, con libertà. Grazie. 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 Grazie a tutti.